Sono contento di essere tornato all'Aquila per tante ragioni, quando mi ha chiamato all'Aquila non ci ho pensato un secondo, ovviamente la situazione di partenza è diversa da quella di oggi, sono stati due giorni perché sono neanche 48 ore che sono in città un po' complicati, ancora non sono finiti ovviamente questi giorni, però la società ovviamente porrà gli obiettivi in reazione a quello in cui resteremo, nell'organico in cui resteremo alla fine, in questo contesto però sono contento dei ragazzi che sono rimasti e dell'impegno che hanno preso, sicuramente domani andranno sostenuti perché si prendono in carico in una situazione molto complicata e noi cerchiamo di fare il nostro lavoro a professionisti il meglio possibile. Ottimi, ottimi, sono stati due anni fantastici, ero un ragazzo giovane, abbiamo vinto due campionati non essendo promossi, però ho dei ricordi bellissimi, ritornarci anche dopo il sisma, dopo queste situazioni, per me è anche un piacere per cercare di dare qualcosa, ora ci sarà da ricostruire anche qui, anche se ci sono terremoti molto meno gravi di quelli che avete subito come città e il nostro lavoro, il nostro impegno sarà massimale con l'appoggio della società che ovviamente è cosciente della situazione.